Buona Lì neanche viste? Eh, ce ne aveva lì, metto la spazio, si ha fatto un solo boccato, no? Allora, 57 e non 66, mi sembra strano, 18 Lo possiamo guardare qui perché sono 8 anni, se ne parla l'anno prossimo, l'anno prossimo un po'. Non ci vedo, ci leggi 85? Sì, ma che vedo? Ora vado. Io ci vedo, io ci vedo. Lato adesso guardando. Sì. Sì. Ma io l'ho assediato. Ma non ci vedo. Vado, c'è il cervello di un po'. No, io vado. Chi è quello? Sì. E' il cervello di un po' non regalare. Non ci vedo. E magari non ci vedo. Anche ho un po' non regalare. E non ci vedo. Che è un pazzo? Vado, io c'è lo dietro. E non le mani di un po' non regalare. E quindi, vai. E allora, ragazzi. che cosa stiamo mangiando la mattina di brutto ma sta crescendo queste invece guarda che prova cedì in alto venga distrugga la sua riva oi oi disturbo il mio sono stanco e meno male mi piove questa temperatura è perfetta ok ha capito i soggetti scusate beh ci rimettiamo al nostro posticino ora la volta di se li faccio un ferro vì ti arrivava capito? se li faccio un ferro vì ti lascia il portavì allora ora invece c'è c'è Vichitor quello che doveva essere prima invece c'era Volpino quindi ora Vichitor poi è volto cittia Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. e a tutti. e a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. grazie a tutti. 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 o Dio. la challa. la challa. una challa. la challa. Grazie. Grazie. Grazie a fare il nome, sai. Ma sono pronto. C'è un bel spiglio ora. Ma di più di moda. Non più di moda, ma è andato nel tempo e nella pancia. E che mi sono fermato. Mi sono compiuto a fare questo lavoro. Ho fatto il lavoro qui. Hai sviluppato la testa, ma hai anche un po' di pancia. Ah, sì? Sì, è pronta alla ciambella. Guarda qui. Fino a che in giro la fulbetta. Grazie. 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 Eccolo qua. Viene a fare. Un bel giro. Un bel giro piccolino, ma... Beh, è troppo preciso. Ecco. Che bello che stavano. è possibile. Ha visto il puletino milla? Sì l'ha messo anche bene. Ehi, voglio andare a mandare perché... e comincio ad essere stanco ragazzi, perdonatemi, nel mal di male vi ho fatto venire allora il paperotto sul papero nuovo, come è la situazione? ma si vengono a fare, come vedi sai, fessi un palparetto, fanno piano, fanno... niente, però vieni per fare presenza diventava una moda, ma io l'ho preso, l'ho preso, l'ho viziato ora santo subito eh ma come sarà la passione di fare oggi mi piace eh? ci si diverte? ci si diverte? eh? ci si diverte a fare le cose eh ma almeno ho cominciato ad essere patiosi è veramente patiosi, anche io le faccio non c'è niente mi piace avere certe idee da sviluppare veramente cazzo se non avremo un canale giù cosa faccio vedere venire a posto tutto sul palio, forse eh? tutto sul palio, forse, pantini e il mondo come non ho testa io c'è tante cose da fare anche la televisione, ho tante pareti si forse ditano nelle stupiraggini quando c'è tante cose da fare c'è tante cose da fare, c'è gente di garba oh beh ma poi il problema è che ho dormito eh? ma poi dopo è che ho dormito ma io ho sottolineato ma io ho la prima del mese no ma io ti diverte? eh hai cinque? hai cinque? hai cinque? hai cinque? hai cinque? eccolo qua questo è qui è di fittia la mia foto è tratto di Zamaglia da lì sta lontando eh? sta lontando sì questo quello che scrive quello che scrive Grazie. Un bel toro stavano. Andiamoci a vedere. Io credo che il cavallo sarebbe da tanto anno. Un anno ancora lì ce la farebbe bene secondo me. Un anno ancora se non è di provincia non mi farebbe male. Non mi riesco a fare. Non mi riesco a fare. Un anno ancora lì. Un anno ancora lì. Non mi riesco a fare. Un anno ancora lì. che miseria eccolo va non ci spazio? si, lo posso passare questo mi sembra che è il proprietario come lo può vedere eccolo va è grande, sì una volta lo è soltanto ora li picciosisco bella, 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 bella allora veniamo facciamo il volo il figlio di amicale grazie a tutti grazie a tutti ho sbagliato ho sbagliato eccolo va che strato bravo 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 ho sbagliato ho sbagliato ho sbagliato ho sbagliato il figlio di amicale c'era un altro ostacolo con l'agentro con l'agentro con l'agentro con l'agentro quando fanno la vicenda con il passaggio e quell'altro con le città che è per me bravo c'era un ostacolo tutto diste bravo c'era un ostacolo ho sbagliato io porto qui bravo c'è tanto ore è bellissimo è bellissimo è bellissima ogni ostacolo è sconsolizzante c'è i città un miliare di euro ma c'è ma cosa è ma cosa è è è è è è è è No, 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 no. Grazie. 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 Pausa. Allora, ora, la chiudiamo perché c'è la pausa. Abbiamo finito. Ah, su re? Sì. Sì. Viene dopo o non viene per niente? Non viene per niente. Allora, vediamo la notizia. Su re non c'è. Eh, vedi. Ok. A fra poco, ora c'è la pausa.